Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì sì, ho detto no? Sì dai, sto registrato, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, come sempre sulla web radio Senza Barcode. Dunque, la scorsa settimana abbiamo parlato di Marco Aurelio, un sovrano giusto ed amante della filosofia e della pace, anche se purtroppo ha dovuto più che altro fare la guerra nel corso del suo principato. Abbiamo anche osservato come si sia probabilmente lasciato travolgere dall'amore paterno associando al trono il figlio Commodo, interrompendo quindi la sequela di adozioni meritorie. Commodo si è fatto una fama di tiranno sanguinario ed edonista, anche grazie al film Il gladiatore, che ne fa addirittura un parricida. Si tratta di una fama meritata? Per molti aspetti la risposta è sicuramente positiva, ma vediamolo nel dettaglio. Lucio Elio Aurelio Commodo, questo è il suo nome completo, nasce alla Nuvio, il 31 agosto del 161, lo stesso giorno del gemello Tito Aurelio Fulvio Antonino, che però morirà ad appena tre anni. Già a quattro anni viene scelto come erede assieme all'altro fratello Marco Annio Vero, che però a sua volta morirà ad appena sette anni di età. Considerando la fama che si è fatto commodo negli anni, è curioso che qualcuno non abbia riferito che fu lui a strozzare in culla i fratellini, ma da quanto insomma sappiamo, per fortuna, almeno questo crimine non lo ha commesso. Il giovane erede riceve un'ottima educazione e segue il padre ovunque nei suoi viaggi, dalla frontiera danubiana all'Oriente. Nel 177, a neppure 16 anni compiuti, ricopre il consolato, divenendo il più giovane della storia romana. Il tutto sarebbe un tantino illegale, ma già Marco Aurelio si era fatto beffe del limite di età, quindi in questo caso è proprio il caso di dire tale padre, tale figlio. Nello stesso anno viene ufficialmente associato al trono dal padre. Nel 178 si sposa con Bruzia Crispina e trascorre gli ultimi anni di vita di Marco Aurelio a quadiovarlo nei suoi compiti. In questo periodo, a quanto pare, Commodo è ancora un ragazzo assolutamente normale e tranquillo, anche se ci viene riferita qualche sua asperità caratteriale. Ad esempio, pare che minacci di bruciare vivo un addetto alle terme a causa dell'acqua troppo calda. Quando l'imperatore muore nel 180, la successione è priva di particolari scossoni, grazie anche al fatto che Commodo, che forse è matto ma non stupido, si assicura immediatamente la fedeltà dei soldati con un'ampia elargizione, cosa che peraltro sarà molto comune nel suo principato. Il giovane ritiene infatti che il miglior modo, se non il solo, per assicurarsi la fedeltà degli uomini, di qualunque tipo di uomini, sia molto banalmente comprarli. Quindi aprirà spesso i cordoni della borsa, sia per i soldati, sia per i cittadini romani, che infatti lo ameranno per molti anni. Qualcuno ha persino azzardato un'analisi psicologica sul rapporto padre-figlio, sostenendo che Marco Aurelio fosse del tutto anaffettivo con Commodo, causando in lui questo particolare modo di concepire rapporti umani. Ma qui entriamo in campi che non ci competono, e comunque di difficile prova. In politica estera, Commodo firma una pace sfavorevole per l'impero con i quadi e i marcomanni, grandi nemici del padre, che di fatti negli anni torneranno spesso e volentieri a mettere a dura prova le legioni di confine. L'imperatore negli anni ogni tanto conduce qualche campagna contro di loro, riportando vittorie minori per le quali comunque pretende grandi onori dal senato. Ecco, proprio il senato è uno dei nemici giurati del giovane princeps. Se il padre aveva cercato la concordia con i padri conscritti, Commodo gode invece nel farli sentire inferiori, e gode nel ricordare loro che il potere è suo, e suo soltanto. Basti pensare che, essendo ossessionato dalle congiure, e restando fedeli alla sua distorta idea di prodigalità e fedeltà, elargisce ampie somme a spie e delatori, stila lunghe liste di proscrizioni, e giustizia più che volentieri chi viene trovato colpevole, meglio ancora se appartenente all'ordine senatorio. In compenso, in politica interna, oltre ad elargire, come detto, donativi sia ai soldati sia ai cittadini comuni, mostra grande tolleranza religiosa, cessando le persecuzioni contro ebrei e cristiani, e dà un grande impulso alle arti, come anni prima aveva fatto l'imperatore Adriano. Qualcuno infatti sostiene che non fu Marco Aurelio ad iniziare la colonna che porta il suo nome, e che non gli fu tributata in vita la statua equestre, ma fu proprio il figlio Commodo ad iniziare le costruzioni di entrambe le opere. Prorogata la scadenza del bando del concorso Blogami 2020, è possibile partecipare fino al 25 novembre. Autori emergenti e affermati, a caccia di nuove emozioni, a voi è rivolto il concorso per racconti brevi indetto dall'Associazione Culturale No Profit Senza Barcode. Attenzione, minimo 900 e massimo 1000 parole. Tutte le informazioni su associazione.senzabarcode.it Cliccando sul banner di Blogami. Commodo è poi noto per la sua grande passione per i giochi gladiatori. Combatta infatti molto spesso nell'arena, cosa considerata completamente scandalosa dai senatori, pretendendo di percepire la normale paga di un qualunque combattente. Ovviamente però nessuno si sogna di combattere realmente con tutte le proprie forze contro l'imperatore di Roma, tant'è che i suoi avversari vengono dotati di armi spuntate o direttamente di legno, oppure vengono scelti fra invalidi di varia natura o persone fin troppo in là con l'età. Insomma, nell'arena fa praticamente i suoi commodi e giunge a vincere, secondo le fonti, ben 700 incontri. Se sentite la musichetta di Bonchi Bonchi Bonbonbon, tutto sommato non siete lontani dal vero. Commodo ha inoltre una particolare passione per le uccisioni di animali. I suoi preferiti, pare, sono gli struzzi, perché dopo la decapitazione continuano a correre per alcuni secondi. In un'occasione in particolare, l'imperatore afferra la testa di uno struzzo e giura ai senatori che un giorno farà la stessa cosa a loro, quando si dice abilità nelle pubbliche relazioni. Essendo peraltro realmente convinto di essere un combattente dalle abilità sovrumane e divine, si fa ritrarle come Ercole, con addosso pelli di leone. Oltre a questa sua passione per i giochi, ci viene riferito che Commodo sia un discreto pervertito dal punto di vista sessuale. Abuserebbe infatti regolarmente delle sorelle, impone alle concubine di mettersi il nome di Faustina, sua madre, ed ha un harem composto da 600 fra ragazzi e ragazze, per tutti i gusti insomma, a disposizione sua e del suo seguito. Ironicamente però nel 192 sarà la moglie di Commodo, Borussia Crispina, ad essere accusata di adulterio ed esiliata. È difficile capire quanto ci sia di vero in queste accuse, alcune davvero orribili e infamanti, e quanto siano invece frutto dell'odio della classe senatoria e degli storici per lui, ma sicuramente non parliamo di uno stinco di santo. Le sue stravaganze, ma soprattutto la sua tendenza ad eliminare chiunque sia anche solo sospettato di congiure, naturalmente fanno sorgere complotti veri e propri. Il 31 dicembre del 192, praticamente poco prima di sfornare Cotechino e Lenticchie, alcuni senatori, con l'aiuto della concubina Marcia, di nome di fatto, avvelenano il vino dell'imperatore. Commodo tuttavia, pensando che i fastidi allo stomaco siano dovuti alla cena troppo pesante, insisto, Cotechino e Lenticchie, si fa aiutare da alcuni servitori a vomitare, salvandosi così inconsapevolmente dal veleno. A quel punto, presi dal panico, i congiurati chiedono aiuto al gladiatore Narcisso, cui è vagamente ispirata la figura cinematografica di Massimo X Meridio, che quella sera stessa strangola Commodo, o, secondo una diversa versione, lo trafigge con la propria spada. Curiosamente, l'anno dopo, Narcisso verrà giustiziato come regicida, proprio assieme alla concubina Marcia. Un bel ringraziamento, no? Non c'è che dire. Fra i congiurati, in compenso, si salverà Cassio Dione, poi divenuto celebre come storico. Commodo era salito al potere da appena 19 anni, e ne ha soli 31 quando viene ucciso. Per lui viene decretata dal Senato la Damnazio Memorie, anche se il suo successore, il prefetto di Roma, Publio Elvio Pertinace, vorrebbe tributargli i sequi e più degni di un sovrano. Pochi anni dopo, il futuro imperatore Settimio Severo decreterà la riabilitazione di Commodo, giungendo addirittura a divinizzarlo. Non è insomma semplice tracciare un ritratto fedele di questo strano sovrano, come del resto di molti imperatori della storia romana. Certamente lascia un impero molto più povero di quello che aveva ereditato, grazie alla sua tendenza a dilapidare somme e più sottoposto al rischio di invasioni, grazie al suo generale disinteresse per le questioni militari. Va però notato che anche il suo successore, il succitato Pertinace, finirà ammazzato dai pretoriani dopo neppure tre mesi di regno, pur trattandosi di un individuo molto più assennato e capace, e ci vorrà una nuova guerra civile per riavere sul trono di Roma un imperatore degno come Settimio Severo. A sua volta però, Settimio Severo chiarirà perfettamente come il tempo della concordia fra imperatori e senato sia da considerarsi finito, atteggiandosi in tutto e per tutto come monarca assoluto. Commodo insomma è forse stato semplicemente l'uomo sbagliato nel momento storico sbagliato, a prescindere dai suoi terribili vizi privati che se veri sono ovviamente del tutto condannabili. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi preannuncio che non vi parlerò più di ogni singolo imperatore, anche perché, come detto, nel caso di Pertinace avrei ben poco di cui parlare e rischierei di fare un podcast di 30 secondi. Tratterò in compenso le figure più rilevanti, a partire naturalmente dallo stesso Settimio Severo. Tuttavia, ciò avverrà fra due settimane, perché la prossima settimana ci sarà una piccola sorpresa. Quale sarà, direte voi? Facile, rimanete collegati sulla Web Radio Senza Barcode e lo saprete. Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla Web Radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì. E ho detto, no? Sì, dai, sto registrato. Fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.